Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati all'aggiornamento delle posizioni che abbiamo in portafoglio visto che è venerdì oggi voglio fare un piccolo aggiornamento avendo comunque diversi trade, diverse posizioni aperte in piattaforma che ovviamente eravamo andati ad impostare durante la sessione di trading con Ichimoku eccola qui, durante le sessioni di trading con Ichimoku e ovviamente anche in Traders Club chi mi segue su Traders Club e su Trading con Ichimoku segue l'operatività mia a 360 gradi voglio anche ricordare che se vi abbonate a Traders Club avete in regalo le sessioni di Trading con Ichimoku andiamo ora a commentare un po' tutti gli aggiornamenti, andiamo a vedere cosa è successo queste in alto a sinistra sono le operazioni che abbiamo in portafoglio al momento stanno andando tutte molto bene, ovviamente come già detto oggi io faccio sempre vedere stop loss e target price e vi indico che comunque ho preso due stop quest'oggi, molto importante da dirlo ecco, quindi ho preso lo stop su EuroGBP perché i prezzi hanno chiuso al di sotto di questa linea rossa e quindi sono uscito, livello che avevo individuato e poi ho preso uno stop anche su GBP Yen dove è? Eccolo qui ho preso uno stop su GBP Yen che avevamo aperto qui in area 129 e 25, 129 e 30 il prezzo ha chiuso sopra 130 e quindi sono andato questa mattina a chiudere la posizione quindi ho preso due stop andiamo ora a vedere invece le operazioni che abbiamo al momento quindi partiamo da AudiCAD siamo short ormai da diversi giorni, dal 15 di agosto e io mantengo la mia posizione short qui ho fatto un piccolo errore, non mi sono esposto tanto perché ho aperto solo un contratto però insomma sta andando bene abbiamo 50 pips di profitto e voglio aggiornare il tutto dicendo che sposto lo stop in pareggio eccoci qui su AudiCAD bene, andiamo avanti perché dopo cosa abbiamo? questa mattina in diretta su Traders Club ho dato un nuovo segnale operativo short a mercato, avevo detto, su CNH Industrial short da 8,65 per quale motivo? Perché qui avevo individuato un impulso e un ritracciamento Ichimoku ci dava comunque anche lui dei segnali interessanti poi comunque tramite lo studio della Price Action sono andato ad individuare questo livello un livello che mi piaceva molto per quale motivo? allora, innanzitutto questa è una candela molto importante quella del 2 agosto il gap altrettanto, questa zona può essere una zona di resistenza sembra che oggi abbia funzionato però insomma io volevo aggiungere i volumi perché? Perché abbiamo quindi proprio su questo gap abbiamo un picco di volumi ecco perché questa zona poteva funzionare da resistenza almeno al momento sta funzionando da resistenza molto importante quando io vado a fare trading sulle azioni andare ad analizzare i volumi indispensabili l'analisi volumetrica comunque impulso partito il 25 di luglio che si è concluso il 13 di agosto da dove è partito il ritracciamento e quindi io sono entrato qui quali sono i miei obiettivi? li vedete in figura abbiamo prima un primo obiettivo in area 8.02 poi abbiamo un altro obiettivo in area 7.35 come sempre i minimi precedenti sono importanti e poi altre estensioni più in là in area 6.7 ma quelli sono già degli obiettivi molto più ampi che magari commenteremo successivamente detto questo possiamo andare avanti ah sì, voglio dire che ho spostato lo stop in pareggia e quindi ora lascio correre sono esposto qui con un 10.000 euro quindi non sono esposto tantissimo però l'operazione mi piace lo stop loss lo vado a dire subito adesso l'ho messo in pareggio però prima l'avevo messo alla chiusura dei prezzi al di sopra del massimo della candela del 2 di agosto e cioè 9 al di sopra di 9 quindi cavalchiamo questo possibile nuovo trend ribassista cercando di rimanere in posizione il più possibile dopo CNH ne abbiamo ancora un po' quindi andiamo a vedere Euro UD che possiamo levare i volumi qui sul Forex e che dire ho individuato impulso ritracciamento siamo long dal 16 di agosto qui non sposto il mio stop in pareggio siamo in profitto di 65 pip il mio primo target è in area 1.66 quindi è lo stop loss la chiusura dei prezzi al di sopra di questo minimo scusate al di sotto di questo minimo in area 1.63 se il prezzo in frame giornaliero chiude al di sotto di questo livello io chiudo la posizione bene andiamo avanti con l'aggiornamento magari certe di queste cose le avete già sentite durante la rubrica ma questo video è proprio serve proprio ad aggiornare tutte le posizioni in portafoglio quindi chi mi segue su Traders Club e Ichimoku può cogliere moltissime informazioni da questo brevissimo video andiamo dopo Euro UD a vedere Euro Dollar dove siamo short ormai da un po' di tempo siamo short dal 12 di agosto dal lunedì 12 agosto stiamo continuando a continuiamo a mantenere le nostre posizioni short con lo stop profit in area 1.11.30 oggi il prezzo ha cercato di rompere questa zona che sembra voler funzionare da supporto anche quest'oggi insomma pochi minuti fa il prezzo stava spingendo Euro Dollar stava spingendo verso il basso stava andando ad attaccare i minimi assoluti il minimo del 1 agosto però guardate come regge questa zona io comunque rimango qui serve avere pazienza io ho lo stop in profit a 1.11.30 ok? quindi mantengo le mie posizioni perché voglio lasciare correre la posizione bene andiamo avanti ah voglio dire una cosa se il prezzo poi oggi chiude al di sotto di questo livello 1.10.63 io porto lo stop ancora più in profitto in area 1.11.20 andiamo avanti però perché abbiamo altro da vedere siamo entrati short sul DAX il 21 di agosto anche qui sta andando bene ho portato lo stop in pareggio al momento perché comunque eravamo in profit di 150 pips e ho spostato lo stop quindi in pareggio aggiornamento molto importante i miei obiettivi sono 11.400 e poi abbiamo anche altre estensioni più in la zona 11.120 più in basso 10.800 insomma questi sono target più ambiziosi che magari potremo commentare più avanti sarebbe molto interessante oggi una chiusura al di sotto del minimo di ieri e cioè 11.712 se il prezzo chiude sotto questo minimo mi aspetto una ulteriore discesa magari all'inizio della prossima settimana andiamo avanti quindi abbiamo protetto anche questa posizione molto bene andiamo a vedere il gold dove qui stiamo sempre lì stiamo soffrendo un po' ma veramente di pochissimo siamo praticamente a livello di entrato perché siamo entrati short da 1.500 e adesso siamo a 1.502,5 ho individuato questo impulso poi a mio avviso conclusosi con questa candela del 13 di agosto una spinning top molto importante ed è per quello che sono entrato short per provare a prendere il ritracciamento questa è sicuramente una delle operazioni che mi piacciono di meno di tutte quelle che abbiamo in portafoglio però insomma primo target 1.480 da lì sposto stop in pareggio target finale 1.475 dove valuterò poi degli delle posizioni al rialzo andiamo avanti perché abbiamo l'ultima posizione siamo entrati short questa è andata bene anche questa è andata bene siamo entrati short su oil US crude mercoledì 21 di agosto segnalato ovviamente tutte queste operazioni sono state segnalate in Traders Club comprese quelle dove abbiamo per lo stop Euro GBP e GBP Yen allora short da 56,30 molto interessante abbiamo fatto poi questa analisi con i vari impulsi di tracciamenti anche grazie ai Cimoco insomma siamo arrivati alla conclusione che abbiamo fatto una buona entrata 56,30 aggiornamento ho spostato lo stop in pareggio se oggi chiude così quindi ha già raggiunto il livello di 53,80 che è un livello importante se comunque oggi chiude al di sotto del minimo di ieri io vado a portare il mio stop in profitto almeno in area 55,60 poi comunque aggiornerò il tutto in Traders Club per ora non ci sono altri aggiornamenti non ci sono operazioni interessanti adesso valuto cerco di studiare un po' di azioni se c'è qualcosa di interessante ve lo indico all'interno del gruppo Traders Club ecco qui comunque i segnali vedete che faccio gli aggiornamenti ho visto buongiorno chiudo le posizioni su RGVP e GBP Yen oggi vendo un'azione CNH Industria questa mattina alle 11.50 sposto lo stop in pareggio all'USCRUD sposto lo stop in pareggio sul DAX sposto lo stop in pareggio sul CNH vedete quindi come aggiorno in continuazione il gruppo è molto molto attivo quindi vi aspetto se siete interessati bene ragazzi io per ora ho concluso per qualsiasi tipo di informazione su questo servizio non esitate a scrivere una mail a info chiocciola investire.biz anche perché si può averlo gratuitamente buona giornata e buon trading a tutti grazie grazie